Allora, buongiorno a tutti voi! Amici di YouTube, siamo di nuovo qui Giuseppe e Marta Mami. Mami, in arte Mami, in arte Babbo. Oh, che bello! Non potete immaginare l'emozione che abbiamo nello stare qui oggi e nel registrare appunto questo video. Assaggi per voi. Sono dei prodottini, eccetera. Babbo si sta addormentando, hai fame Babbo? Eh, un pochettino. Si girate verso di me così, dei prodottini. Un pochettino, e beh, non so che cosa sono, mi sono girato per guardare. Sono tutte novità Babbo, delle novità pazzesche che ho trovato nel supermercato, nei supermercati in questi giorni, in quest'ultimo periodo anzi, e piano piano sono riuscita a raccimolare tutte le novità, perché sapete che qua a Cagliari purtroppo tutti i prodotti, tutte le novità arrivano veramente tardissimo. E poi finiscono subito. E finiscono subito, è vero. E quindi piano piano appunto sono riuscita a recuperarli quasi tutti, diciamo quasi tutte le novità del periodo. E ho detto no, vabbè, adesso dobbiamo fare assolutamente il video assaggi con Babbo. Dai, 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 su, 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 su. Per augurare un buon farragosto. Eh, sei preparato. Vi giuro che non l'ho preparato prima dietro le quinte. Allora, cominciamo. Che cosa iniziamo? Allora, io direi Babbo di iniziare dalla foto di miniatura. Adesso è così. Io no. Ho sentito un crack. Torna poco poco indietro Babbo. Eh, te l'hai dimenticato com'era bello fare una foto di miniatura, vero? Aspetta. No, guarda, te lo sistemo io Babbo. Questo lo metti dritto così, questo lo metti un po' così. E io non mi metto. Comunque, amici, vi stiamo mancati? A me sì. Anche a me. Finalmente, siamo troppo felici di essere qua. Allora, la prima cosa, sono tartelle cuor di mela. Finalmente le ho trovate. Con mele 100% italiane. Sei tartelle senza additivi conservanti, senza olio di palma. Ok, vai vai, mostra Babbo. Novetà della mulino bianco. Devono essere fantastiche, wow. Sono sei tartelle. Come le ho viste ho detto no, vabbè. Devono essere subito mie. A parte che qualcuna di voi mi aveva proprio chiesto di fare il video assaggi, cioè di provare e di assaggiare queste tartelle. E adesso eccoci qua. Da tutti i lati. Bravissimo. Perfetto. Adesso apriamo. Vai, apriamo, apriamo. Ehi, Babbo, non ti sei dimenticato, eh? Apriamo, apriamo. Sono morbidissime. No, devono essere spettacolari. Babbo, la dividiamo? Perché abbiamo un sacco di roba da assaggiare. Non me la mangio. Comunque, che ridere, Babbo. Per le feste comandate? Ci stanno vedendo gli amici di YouTube. Non va bene. È Natale, è Pasqua e adesso per l'agosto. Eh, va bene. Vediamo. L'importante è che ci vedano. L'importante è mangiare, pensavo che stavi dicendo. Oddio, il profumo è eccezionale. Senti, Babbo. Allora, vediamo un po'. Ok, guardate quanto è morbida. No, è piena di mele, Babbo. Proviamo. Morbidissima. Buonissima. È una frolla, vero? Frolla è tortina. È buonissima, Babbo. Le do dieci. Io le do nove, però è la fine del mondo. Buona. Ve la straconsigliamo. Si sente forte il gusto delle mele. È buonissima. Che bello, sei più lì, Babbo. È bello. Ti piace fare i video assaggi insieme agli amici di YouTube? Si, 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 si. Sempre della mulino bianco. Ma posso scegliere bene. Una novità. Baiocchi al pistacchio. Sei porzioni da tre biscotti. Senza olio di palma. Vediamo. Novità. Vediamo. Dice pasta frolla, fragrante, crema al pistacchio. E poi, dice la fragrante cialda di biscotto Baiocchi. Incontro una golosa crema di pistacchio. Un uovo sorprendente gusto dei Baiocchi. Una bontà tutta da scoprire. Anche questi, aiuto, devono essere la fine del mondo. Poi, io adoro il pistacchio. A te piace, Babbo? Si, si. Vai, vai. Apri, apri. Pancia nostra fatica pan. La confezioncina piccola piccola si presenta. Così sono tre Baiocchi all'interno. Vediamo. E ora, apriamo subito. E vediamo come sono. Già, io vado pazza per i Baiocchi. Un pezzettino. Eh, Babbo si vuole... Uh, avete visto quanto era morbido? Babbo si vuole tenere il pancino libero anche per tutto il resto. È morbidissimo. Ti vuoi un altro? Babbo stai sparendo dalla ripresa. Io sparisco e taglio. Sono qui presente. Sono qui presente. Che voto gli dai? 9. 9 buono. Io gli do un 10. Ti giuro che mi piacciono di più dei Baiocchi classici. Lo sai? Ah, è. Hanno la frolla davvero fragrante e friabile. E poi questo buon sapore di pistacchio. Hai sentito? Che forte, che buono. Si, si, si. Bello, bello. Bello, bello. Babbo, dai, proseguiamo. Dai, proseguiamo. Guardate un po' biscotti con cioccolato fondente e arancia. Della Coop. Sono, dice, fonte di fibre, giusto? Come li ho visti alla Coop, mi sono subito incuriosita e ho detto, questi non li ho ancora provati, devono essere fantastici. Sono biologici. E sono, e sono biologici, sì, Babbo. Esatto. Ok, hai un pochino più di allegria. Ecco qui l'allegria. Allegria. Oh, che bellini. Sono monoporzioni da quattro biscottini. Eccoli qua. Adesso appoggia pure da quella parte. Sapete che cosa mi ricordano per adesso? I biscotti della Molino Bianco all'arancia e cioccolato. Sai che questi li ricordano tantissimo. Senti il profumo, vero Babbo? Sì. E facciamo ovviamente vedere sempre la friabilità. Mi si è rotto in tre pezzi. Eh, vabbè. Dai, dai. Questi devono essere buoni da inzuppare. Inzuppare? Eh, ma lo troviamo subito. Anche da inzuppare nel tè. Sai che sono veramente buoni, Babbo? Sì, sì, sì. Guarda l'ucerino. L'ucerino va ora. Sono crocantini al punto giusto. Si sente fortissimo il gusto dell'arancia ed è fantastico. Sì. E sento anche il retro gusto delle gocce di cioccolato fondente. Però io preferisco gli altri. Anche io ovviamente. Però si sente che sono sani questi. Sì, sì, sì. Sì. Buoni, buoni. Sono buoni, sono ottimi, però... Sì. E sono pieni di gocce di cioccolato. Però in confronto... Beh, si sa, Babbo, che piacciono le cose più grasse. Eh, no, Babbo. Vai, poggialli, Babbo. Io gli do un 9,5. Sono veramente ottimi. 8,5. E super consigliati anche per la genuinità. Io gli do un 8,5. Bravo, Babbo. Sono più gocciole, special editor, caramelle. Special? Special editor, edizione. 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 E la casa editrice... Ah, edizione. Casa editrice Babbo. dei libri senza olio di palma si esatto caramello con cioccolato e croccante granella di di caramello aiuto sto già in fibrillazione per questi biscotti che devono essere la fine del mondo poi io amo il caramello alla follia eccoci qua eccoci qui tutti qui pronti babbo piano piano è come un diesel sta carburando tra poco lo vedrete anche un pochino più allegro perché aveva fame eccola qua caramello dai non siamo poi così tanto arrugginiti nel fare i video assaggi vero insomma così così senza olio di palma eccolo qui si si così babbo apri te io non gli riesco eh però riesci a mangiare no ad assaggiare ad assaggiare che buon profumo di caramello l'ho sprigionato all'apertura della busta no vabbè babbo diventeranno le mie gocciole preferite non è che devi stannutire no 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 se sta il naso sembravi un cane da tartuffi eh infatti perché deve devo adorare bene devi tartufare oh che bellino ha forma di naso eh vedi vedi vediamo se è friabile assolutamente sì mmm piccolino sì 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 piccolino piccolino per babbo mmm molto dolci questo è proprio adatto per indupare perché domani è anche un po' cosa dici un po' un po' duretto diciamo che preferisco e prediligo di più le gocciole degli altri formati negli altri formati tipo formato classico alle nocciole al cocco eh questo sapete che hanno ho capito perché hanno scritto solo tre gocciole nella nella colazione ideale perché nauseano un po' sì è molto stucchevole come gusto c'è troppo caramello riempie troppo eh no è che c'è troppo caramello capito dopo che ne mangi due tre quattro ti cominci a sei al limite sei già a posto non hai più voglia di mangiare nient'altro è un sapore forte non a tutti secondo me può piacere noi abbiamo fatto abbiamo assaggiato le altre cose più questo c'è venuto il senso di pienezza sì già è vero anche io bravo babbo sette e mezzo aggiudicato sì sì oh e poi abbiamo l'ultimo prodottino l'ultimo assaggio per oggi e speriamo ovviamente di rivederci al più presto con altre novità anche questa è una novità una novità che bontà hai fatto la rima babbo bravo novità che bontà ed è della lo hacker sì guarda 18% burro di noccioline poi dice no coloranti no conservanti novità classico come si legge e babbo alla tedesca hai detto peanut butter ecco qui buoni buoni anche questa è una novità pazzesca è la prima novità che ho trovato nei supermercati al Conad e precisamente al Conad devo prenderlo subito poi piano piano ho raccimolato anche gli altri ecco il wafer si presenta così un classico wafer ma con un profumo eccellente babbo mamma mia un pezzettino piccolino per me se poteste sentire il profumo ecco per babbo no vabbè 10 10 babbo questo la mangi per colazione per colazione mezza la mattina mezza la sera anche pollo ne vuole sta facendo così con i baffetti e poi cena pranzo sempre sempre babbo si gusta con gli occhi chiusi infatti io ho gli occhi chiusi e mi sto gustando tutto però con gli occhi chiusi una cosa fa se dormita io me lo sto gustando lentamente come ti è sembrato questa ripresa questo nuovo video assaggio insieme agli amici di youtube una nuova una nuova occasione per poterci rincontrare nuovamente dopo un po' di tempo che non ci vedevamo e sei contento? è logico se uno è contento deve trovare gli amici ecco siamo felicissimi veramente ci siete mancati tantissimo e tanti saluti a tutte le persone che che ci iscrivono e anche a quelle che lungo la strada mi fermano e mi dicono lei è il babbo di di mammi le ricette di mammi le ricette di mammi io gli ho detto sì sì le dico sì sì mi ha fatto piacere guardi guardi non sai che io ho sto facendo sempre quelle le ricette di tale cosa tale cosa mi stanno uscendo sempre bene che berlo e babbo quindi sei famoso anche tu ogni tanto mi fermano non è che Cagliari non è che sia tanto grande capito infatti questa signora che mi ha fermato l'altro giorno mi ha detto la vedevo ogni giorno però avevo vergogna di fermarla addirittura dai no comunque è vero anche a me hanno fermato diverse persone per la strada e mi ha fatto troppo piacere quindi se siete in zona Cagliari anche dintorni medio campidano diciamo e ci doveste vedere per strada fermateci perché ci fa troppo piacere troppo piacere incontrarvi e salutarvi assolutamente sì da poco ho incontrato una ragazza al mare che mi ha detto appunto che ha rifatto tante mie ricette che le sono piaciute tantissimo e questo veramente mi riempie il cuore di gioia e di affetto siete formidabili veramente e ovviamente ci emozioniamo tantissimo questa signora ha detto che lei ha imparato a fare il culurjonis e adesso gli sta anche vendendo wow che bello felicissima veramente troppo troppo sì sì quindi è una bella soddisfazione vi auguriamo un buonissimo ferragosto e una bellissima estate una bellissima estate una buonissima giornata e speriamo di rivederci il più presto possibile con tantissimi altri nuovi prodotti per voi presi e scelti per voi e per tenervi ovviamente tantissima compagnia e stare noi in vostra compagnia speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi salutiamo tantissimamente da mammi e babbo mi piace questo tantissimamente lo utilizzeremo come nuovo termine tantissimamente baci a tutti voi a tutti voi ciao ciao amici di youtube a prestissimo a presto ciao 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 ciao